il manifesto degli intellettuali antifascisti pubblicato il primo maggio 1925 sul mondo è l'immediata risposta di croce al manifesto gentiliano lo studioso pur avendo guardato con iniziale simpatia al fascismo prende definitivamente le distanze con una posizione ferma a tratti ironica da quello che giudica un invasamento del cervello cagionato da malcerte o mal comprese teorie contro l'irrazionalismo e la componente falsamente fanaticamente religiosa croce ribadisce come unica e sola morale la libertà dell'individuo e della cultura che non devono corrompersi strumentalmente nella politica gli intellettuali fascisti riuniti in congresso a bologna hanno indirizzato un manifesto agli intellettuali di tutte le nazioni per spiegare e difendere innanzi ad essi la politica del partito fascista e veramente gli intellettuali ossia i cultori della scienza e dell'arte se come cittadini esercitano il loro diritto e adempiono il loro dovere con la scriversi un partito e fedelmente servirlo come intellettuali hanno il solo dovere di attendere con l'opera dell'indagine della critica e con le creazioni dell'arte a innalzare parimenti tutti gli uomini e tutti i partiti a più alta sfera spirituale affinché con effetti sempre più benefici combattano le lotte necessarie varcare questi limiti dell'ufficio a loro assegnato contaminare politica e letteratura politica e scienza è un errore che quando poi si faccia come in questo caso per patrocinare le plorevoli violenze e prepotenze e la soppressione della libertà di stampa non può dirsi neppure un errore generoso e non è nemmeno quello degli intellettuali fascisti un atto che risplenda di molto delicato sentire verso la patria in cui travagli non è lecito sottoporre al giudizio degli stranieri incuranti come del resto è naturale di guardarli fuori dei diversi e particolari interessi politici delle proprie nazioni nella sostanza quella scrittura è un imparaticcio scolaresco nel quale in ogni punto si notano confusioni dottrinali e malfilati raziocinamenti come dove si prende in scambio l'atomismo di certe costruzioni della scienza politica del secolo decimo ottavo con liberalismo democratico del secolo decimo nono cioè l'antistorico e astratto e matematico democraticismo con la concezione sommamente storica della libera gara e dell'avvicendarsi dei partiti al potere onde merce l'opposizione si attua quasi graduandolo il progresso o come dove con facile riscaldamento retorico si celebra la doverosa sottomissione degli individui al tutto quasi che sia in questione ciò e non invece la capacità delle forme autoritarie a garantire il più efficace elevamento morale ma il maltrattamento della dottrina della storia è cosa di poco conto in quella scrittura a paragone dell'abuso che vi si fa della parola religione perché a senso dei signori intellettuali fascistici noi ora in italia saremo allietati da una guerra di religione dalle gesta di un nuovo evangelo e di un nuovo apostolato contro una vecchia superstizione che rilutta alla morte la quale le sta sopra e alla quale dovrà pure acconciarsi e ne reccano a prova all'odio e il rancore che ardono ora come non mai tra italiani e italiani chiamare contrasto di religione l'odio e il rancore che si accendono contro un partito che nega i componenti degli altri partiti il carattere di italiani e l'ingiuria stranieri nobilitari col nome di religione il sospetto e l'animosità sparsi dappertutto che hanno tolto perfino ai giovani dell'università l'antica e fidente fratellanza nei comuni e giovanili ideali e li tengono gli uni contro gli altri insembianti ostili e cosa che suona a dir vero come un'assai lugubre facezia per questa caotica inafferrabile religione non ci sentiamo dunque di abbandonare la nostra vecchia fede la fede che da due secoli e mezzo è stata l'anima dell'italia che risorgeva dell'italia moderna quella fede che si compose di amore alla verità di aspirazione alla giustizia di generoso senso umano e civile di zelo per l'educazione intellettuale e morale di sollecitudine per la libertà forza e garanzia di ogni avanzamento noi rivolgiamo gli occhi alle immagini degli uomini del risorgimento di coloro che per l'italia operarono patirono e morirono e ci sembra di vederli offesi e turbati in volto alle parole che si pronunziano e agli atti che si compiono dai nostri italiani avversari e gravi e monitori a noi perché teniamo salda in pugno la loro bandiera la nostra fede non è un'escogitazione artificiosa e astratta o un invasamento di cervello cagionato da mal certe o mal comprese teorie ma è il possesso di una tradizione diventata a disposizione del sentimento con formazione mentale e morale ripetono gli intellettuali fascisti nel loro manifesto la trista frase che il risorgimento d'italia fu l'opera di una minoranza ma non avvertono che in ciò appunto fu la debolezza della nostra costituzione politica e sociale e anzi par quasi che si compiacciano dell'odierna perlomeno apparente indifferenza di gran parte dei cittadini d'italia di fronte ai contrasti tra il fascismo e i suoi oppositori i liberali di tal cosa non si compiacquero mai e si studiarono a tutto potere di venire chiamando sempre maggior numero di italiani alla vita pubblica e in questo fu la precicua origine anche di qualcuno dei più disputati loro atti come l'allargizione del suffragio universale